Sono stato da ben 7 psicologi e psicoterapeuti diversi per risolvere vari problemi che avevo e in questo video voglio raccontarti cosa è successo, perché con alcuni di essi mi sono trovato benissimo e mi hanno sinceramente cambiato la vita. Con uno ci ho litigato e con un altro mi ha consigliato qualcosa di veramente poco etico che non doveva dirmi. Grazie a queste esperienze ho provato vari tipi di terapia molto diversi fra loro. Ho provato per esempio l'approccio dinamico, l'approccio breve strategico, l'ipnosi terapeutica, l'approccio cognitivo comportamentale di terza ondata, le MDR e tante altre cose. Tranquillo, evita di preoccuparti se non conosci queste cose, le scopriremo assieme in questo video, nella pratica attraverso quello che mi è successo, perché forse non lo sai, ma gli psicoterapeuti seguono approcci psicoterapici molto diversi fra loro. E cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se porti lo stesso problema a due terapeuti diversi, questi due terapeuti possono lavorare sul problema in modi completamente diversi fra loro. Questa cosa mi ha sempre incuriosito e affascinato un sacco e dato che lavoro da anni nell'ambito della comunicazione legata alla psicologia e allo sviluppo personale, il mio socio è psicologo, psicoterapeuta, beh, sono estremamente curioso di provare vari approcci, quindi di conseguenza quando ho un problema e penso che possa essere risolto meglio con l'aiuto di uno psicoterapeuta, beh, ho anche voglia di provare approcci diversi, quindi vado a cercarli e questo è uno dei motivi per cui ho provato vari psicologi. Ma lo scopo di questo video non è solo quello di raccontarti cosa mi è successo, anzi, è quello di darti gli strumenti per trovare il terapeuta perfetto che fa al caso tuo, perché di solito le persone se ne fanno consigliare uno, magari da qualcuno che conoscono, e vanno, senza avere gli strumenti per decidere se fa al caso loro o no. In questo video invece vedremo vari approcci terapeutici, come mi sono trovato e alla fine ti darò tre consigli che sinceramente nessuno ti ha mai detto su come scegliere uno psicoterapeuta che sia perfetto per il tuo caso. Perché vedi, scegliere lo psicoterapeuta giusto fa tutta la differenza del mondo, fa la differenza fra risolvere il problema e non risolvere un tubo di niente. E sai, lo psicoterapeuta giusto ti cambia la vita, mentre quello sbagliato oltre a farti perdere tempo e soldi, beh, può perfino causarti dei problemi che prima non avevi. E tutto questo lo dico con il più profondo rispetto e ammirazione sinceramente per la professione dello psicoterapeuta, che è una professione ragazzi difficilissima che ha a che fare con la sofferenza più profonda delle persone. Ok, quindi perché sono andato da questi sette psicologi? Sono tanti sette, beh, perché in tre momenti diversi della mia vita ho portato tre problemi diversi a questi psicologi. E ora vedremo il primo. Migliorare ancora con la balbuzie. Ai primi tre psicologi ho portato il più grosso problema della mia vita, cioè la balbuzie. Su questo alla fine ho lavorato con Luigi, Gennaro e Giorgio. Ma prima di vedere cosa è successo devo dirti un secondo come funziona la balbuzie. Ci metto un secondo ed è necessario per capire quello che viene dopo. Tu stai guardando il video e pensi, beh, è impossibile che questa persona balbetti. Beh, in realtà balbetto sempre quando parlo con le altre persone. E quindi posso chiederle? No, 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 no. Perché qui sono ad ansia zero, sono in casa mia, non c'è nessuno che mi sta sentendo, posso bloccare, posso tagliare se balbetto, quindi sono ad ansia zero. Se parlo invece con le altre persone balbetto sempre e quando e con più persone parlo più tendo a balbettare. Infatti più hai delle persone che ti ascoltano, più sale l'ansia e più di conseguenza una persona balbetta. Ma all'epoca pensavo che la balbuzie fosse solo un problema psicologico e non anche neurologico. E invece non è così perché si è visto da scan cerebrali eccetera che fondamentalmente ci sono delle parti del cervello dei balbuzienti che funzionano in modo diverso, non come il cervello delle persone senza la balbuzie. Ci sono delle parti che hanno meno sangue per esempio e di conseguenza si balbetta. Detto questo però una persona può balbettare tantissimo o pochissimo a seconda della situazione. Più ansia c'è più si balbetta. Da più giovane balbettavo tantissimo. Ci sono state proprio situazioni della mia vita tipo l'esame di maturità, gli esami all'università che ho mollato proprio per la balbuzie in cui proprio mi si bloccava completamente la mascella. Sono stati traumi per me fortissimi. Dopodiché ci ho lavorato sopra, ho lavorato sull'ansia, sulla paura e la balbuzie è diminuita. Per cui in tante situazioni riuscivo comunque a parlare. Però c'erano delle altre situazioni con più ansia in cui facevo molta fatica e quindi ho voluto lavorarne con gli psicologi. Ma non sono partito dicendo voglio lavorare con tre psicologi su questa cosa. Semplicemente un amico si era trovato bene con uno psicologo, si parlava e mi è venuto in mente ma forse può fare qualche cosa anche per la mia balbuzie. E di conseguenza mi ha dato il suo numero e sono andato. Luigi. Vado quindi da Luigi che in realtà non si chiama Luigi. Cinque di questi sette nomi sono nomi di fantasia perché non sono figure pubbliche e non vedo perché devo raccontare com'è andata a fare nomi e cognomi di fronte a mezzo mondo. Due però su sette sono figure molto pubbliche e quindi posso fare nome e cognome tanto sono famosi e mi sono pure trovato bene quindi meglio così. Luigi quindi inizia con me una serie di tecniche piuttosto strane e mi dice che secondo lui tutta la mia balbuzie da il rapporto che ho avuto con mio padre. Da lì iniziano diversi mesi in cui lavoriamo spesso, faccio un sacco di strada in macchina e però purtroppo non è andata bene anche perché Luigi non si è comportato per niente bene con me. Luigi infatti non segue le classiche scuole di psicoterapia segue invece un approccio assurdo senza alcuna base senza alcuna storia che gli ha insegnato il suo maestro, il suo maestro che o è stato radiato mi sembra dall'ordine degli psicologi o comunque ha avuto vari problemi con l'ordine degli psicologi proprio perché faceva robe veramente strane. Questo però l'ho scoperto dopo. Prima avevo fiducia che con Luigi funzionasse perché non ne capivo niente e no non farò nomi e cognomi perché non voglio perché mi denuncia per diffamazione e anche perché sinceramente non mi ricordo proprio né nome né cognome. Era di un'altra città non saprei nemmeno come ritornare da lui. Ma c'è di più perché in realtà Luigi ad un certo punto mi ha consigliato di fare qualche cosa di assolutamente non etico che un psicologo o una persona in generale non dovrebbe mai consigliare di fare. Sinceramente è una cosa un po' pesante che non ho fatto quindi non ho nessun problema io però sinceramente in questo primo video non mi sento di dirlo. È una cosa veramente sporca che non ho assolutamente fatto. Dopo quel suggerimento però mi si è accesa un po' una lampadina ho detto no no qua c'è qualcosa che non va e sono andato via a gambe levata. La tonda ragazzi è così. Gli psicologi sono esseri umani e una piccolissima percentuale di loro purtroppo non lavora bene non lavora in modo etico come qualsiasi altra professione. Quindi se scopri uno che lavora così sicuramente vattene e se vuoi puoi anche fare una segnalazione all'ordine degli psicologi. L'ordine degli psicologi serve appunto per tutelare sia anche gli psicologi ma anche i pazienti degli psicologi stessi. Giorgio Nardone. Saprai forse che in Italia abbiamo tre Giorgio famosi. Giorgio Armani, Giorgio Morodar e Giorgio Nardone. Giorgio Nardone è il creatore assieme a Paul Vazalvic del famoso centro di terapia strategica di Arezzo. Partendo infatti dalle scoperte e dalle tecniche del Mental Research Institute di Palo Alto di cui Vazalvic faceva parte portano in Italia un approccio molto molto veloce ed efficace che riesce a risolvere problemi anche molto complessi in tempi molto brevi. Così prendo la macchina e in giornata vado da Verona ad Arezzo e poi torno indietro. Un bel viaggio e con il professor Nardone faccio mi sembra due o tre sedute. Si parla di un sacco di anni fa. Che cosa facciamo in queste sedute? Beh mi assegna dei compiti. Il primo compito è usare quella che scoprirò dopo essere chiamata la peggiore fantasia. Fondamentalmente mi fa distendere e mi fa pensare alle mie peggiori paure. Cioè quindi mi fa pensare per esempio al mio timore di balbettare di fonte a tanta gente. 20 minuti al giorno per diversi giorni consecutivi. La volta dopo mi fa fare la dichiarazione del perturbante segreto. Cioè fondamentalmente mi fa fare delle telefonate e prima di cominciare a parlare e sicuramente avrei balbettato mi fa scusare con l'altra persona per avere la balbuzie. Cioè mi fa dichiarare il mio problema fondamentalmente. Queste due tecniche vanno a lavorare proprio sull'ansia, sulla paura e infatti mi hanno dato una gran mano e le uso tuttora quando ho delle ansie o delle paure. E come abbiamo già detto per la balbuzie funziona un sacco perché abbassando l'ansia e la paura meno hai paura meno hai ansia meno balbetti. Questo approccio così innovativo, totalmente diverso da tutto quello che avevo scoperto nello sviluppo personale prima, mi fa innamorare dell'approccio breve strategico, quello appunto del professor Nardone. Legò praticamente quasi tutti i suoi libri e faccio anche, mi iscrivo qualche mese dopo al loro corso di counseling. Non per fare il counselor ma semplicemente perché volevo saperne di più, volevo scoprire bene come funzionava il tutto e mi è piaciuto da morire. Gennaro Romagnoli. All'epoca mi stavo già occupando di comunicazione digitale e avevo già iniziato a collaborare con Gennaro Romagnoli, psicologo molto famoso sul web. A mio parere Gennaro è uno degli psicologi più versatili d'Italia, nel senso che conosce diversi approcci e di conseguenza sa quale usare nel momento più opportuno. All'epoca si stava focalizzando sull'ipnosi terapeutica, che non c'entra nulla con l'ipnosi da palcoscenico, ma invece un approccio altamente riconosciuto e estremamente funzionante. Così parto da Verona e vado fin nella campagna di Mantova, anche lì un viaggione fondamentalmente, nella nebbia alcune volte. E mi ricordo di stendermi sul lettino, fondamentalmente farmi dei gran viaggi mentali, mentre Gennaro con la sua voce mi cullava e poi ovviamente lavorava dentro di me. Ma che cosa faceva Gennaro durante queste sessioni di ipnosi? Beh lo scoprì anni dopo perché ne parlammo. Lui mi disse che si focalizzò sul fondamentalmente aumentare la mia fiducia nel mio inconscio, ma attenzione, non inconscio in senso freudiano, ma inconscio nel senso di chiamiamolo quell'intelligenza corporea, quegli automatismi che fanno in modo che il mio cuore batta in questo momento, che fa in modo di per esempio cambiare marcia senza nemmeno pensarci tutti quegli automatismi lì. Perché infatti le persone che non balbettano non pensano a ogni singolo movimento della bocca, giusto? Mentre un balbuziente che si blocca tenta di controllare i vari movimenti della bocca, ma si incarta su se stesso e questo crea ancora più balbuzie. Quello che Gennaro ha fatto durante quelle sessioni è aumentare la fiducia nel mio inconscio che fosse in grado di muovere la bocca diciamo al posto mio, per così dire, senza che io dovessi pensare a ogni singolo movimento. Aumentando la fiducia in questi automatismi l'ansia è scesa. Quindi grazie a Gennaro e anche grazie alle tecniche del professor Nardone ho avuto un netto miglioramento nella balbuzie. Ora so che sentendo questi buoni risultati, persone anche non balbuzienti, vorrebbero contattare Gennaro e fissare un appuntamento con lui. Gennaro, che ad oggi è il mio socio, ha una lista d'attesa lunghissima, quindi sarà impossibile per te purtroppo farlo. Però ti consiglio di cliccare sul link in descrizione perché stiamo creando un servizio fatto da psicologi che utilizzano solo approcci altamente funzionanti. Le difficoltà dell'essere genitore. Flash forward a diversi anni dopo e sono genitore assieme a mia moglie di un bambino di tre anni. Sono andato da tre psicologi diversi per quello che riguarda alcune normali difficoltà che ho trovato nell'essere genitore, nel gestire meglio alcune situazioni con mio figlio. Tranquillo tranquillo, non ti annoierò con dei dettagli sulla genitorialità, sull'essere genitore, perché questo non è lo scopo del video e a te magari non interessa. Quello che invece voglio fare è parlarti di come tre psicologi diversi abbiano guardato problemi molto simili e abbiano adottato tre strade e tre metodologie molto diverse fra loro. Però nota importante che avrei dovuto fare all'inizio del video e mi sono dimenticato. In realtà io dico andare da uno psicologo perché la gente lo dice nel linguaggio comune, vado dallo psicologo. In realtà certe volte può essere uno psicologo e certe volte uno psicoterapeuta. La differenza è che uno psicologo è una persona laureata in psicologia che ha fatto l'esame di stato ed è entrato nell'ordine degli psicologi. Uno psicoterapeuta è una persona che può diventare psicoterapeuta attraverso varie strade, attraverso per esempio la strada di psicologia, quindi fare cinque anni di psicologia e dopo fare quattro anni di scuola di specializzazione in psicoterapia e diventare psicoterapeuta. Oppure ci può arrivare da medicina, insomma ci sono diverse strade per diventare psicoterapeuta. Ma quello che interessa a noi è parlare fondamentalmente dalla persona da cui vai per risolvere delle problematiche psicologiche, quindi per farla semplice dirò ogni tanto psicologo, ogni tanto psicoterapeuta, sebbene sia chiaro, sono cose diverse. Ma come mai ho voluto parlare con questi psicologi delle difficoltà che ho avuto con mio figlio? Non ho portato mio figlio da loro, ci siamo sentiti sempre online e ho imparato delle cose, delle tecniche, delle modalità di vedere la situazione che mi hanno aiutato con mio figlio, per cui io parlavo con loro e poi io agivo insieme a mia moglie con mio figlio. Ci siamo infatti trovati ad affrontare delle normalissime problematiche che ogni genitore affronta con bambini piccoli, crisi di pianto lunghissime, scontri, urla, qualche botta, cose normalissime, però sono comunque pesanti anche se sono molto comuni e se posso evitare di vedere piangere mio figlio per 40 minuti urlante sul pavimento io lo preferisco, ma lo preferisco anche e soprattutto per lui perché per un bambino non è bello piangere per tanto tempo, per esempio, e soprattutto si possono sfruttare questi momenti di difficoltà per insegnare delle cose al proprio figlio, per esempio, per insegnare come gestire emozioni forti e che fanno tanta paura a un bambino, come per esempio la rabbia. Quindi, sapendo che comunque si trattava di cose normalissime e sapendo che ho letto un sacco di libri sulla genitorialità, quindi tante cose già le facevo, beh, ho deciso comunque di sentire il primo psicologo. Francesco. Francesco seguiva un approccio che viene definito in vari modi, viene definito per esempio gentle parenting, connection parenting, insomma tutto quell'insieme di metodologie e di tecniche e di visione della genitorialità che tenta non solo di fare in modo che il bambino faccia quello che deve fare, ma farsi in modo di creare connessione fra il genitore e il bambino, di modo che non si crei una sorta di comunicazione dove c'è il genitore qua, il capo assoluto e il bambino qua che deve solo stare zitto, ma che ci sia un avvicinamento e una connessione fra i due. Per quello che riguarda i consigli di Francesco mi sono trovato molto bene, d'altronde erano totalmente in linea con un sacco di cose che avevo già studiato su diversi libri, però è successo un problema. Iniziamo queste call online, va tutto bene, però dopo un po' cominciò a notare diversi atteggiamenti che non mi piacciono. Per esempio, non mi piace il fatto che mi sembra che guardi le nostre microespressioni, la mia e quella di mia moglie mentre parliamo, e mi sembra che mi faccia il detective per capire, ah ma cos'è stata quella cosa lì, cioè questa cosa mi infastidiva da morire, ok? Poi mi infastidiva il fatto che ogni tanto mi faceva sentire in colpa per non fare certe cose subito perché bisogna fare in fretta, si ho capito, bisogna fare in fretta, ma è un casino, cioè ragazzi è un casino, per cui mi infastidiva che mi facesse sentire in colpa, una mancanza un po' di empatia in diverse situazioni, insomma un insieme di problemi. Così una volta gli scrivo, lui non mi risponde, insomma gli rispondo male per messaggio, una volta dopo ne parliamo ma si vede che si era un po' rotto il meccanismo e infatti lui ha suggerito di voler continuare solo con mia moglie ad un certo punto e vabbè mia moglie ha continuato un po' con lui ma ad un po' ha smesso pure lei. Che cosa ci insegna tutto questo? Beh fondamentalmente il terapeuta è una persona perché sì c'è l'approccio psicoterapico, sì ci sei tu, ma c'è anche l'altra persona ed è una persona come tutte le altre, cioè io posso andare d'accordo con alcune persone che tu magari odi e viceversa. Di conseguenza ti devi trovare con uno psicologo, con uno psicoterapeuta, ti devi trovare, ci deve essere connessione. Se dopo un po' questa connessione non c'è è bene cambiare con un disclaimer però che vedremo alla fine. In altri termini io non penso assolutamente che Francesco fosse una cattiva persona, una persona antipatica, semplicemente non ci siamo trovati e sono cose che capitano. Barbara. Dopo un po' di tempo solgono delle normalissime altre situazioni difficili con il nostro figlio e allora per mia grandissima curiosità mi dico proviamo l'approccio psicodinamico che non avevo mai provato. Il famosissimo approccio psicodinamico tra le sue origine dal buon vecchio Sigmund Freud ma allo stesso tempo integra tutto questo con diverse altre cose per esempio con la psicologia jungiana, con la psicanalisi lacaneana e altre cose. Uno dei scopi principali dell'approccio psicodinamico è quello di mostrare al paziente degli eventi della sua vita sotto tutt'altra luce. Infatti con Barbara sì siamo partiti a parlare di mio figlio ma alla fine siamo finiti a parlare sinceramente di un sacco di cose, della mia infanzia, dei miei genitori, insomma parliamo parliamo e parliamo tantissimo di un sacco di cose. Come mi sono trovato? Beh devo dire molto bello, toccante e interessante. Allo stesso tempo però per come sono fatto io quindi a una mia valutazione totalmente personale a me piace qualcosa di un po' più pratico, anzi di molto più pratico, qualcosa che mi consente di dire ok questo è il problema e questa è una cosa che posso provare per risolverlo. Ho trovato quindi l'approccio psicodinamico un po' lento rispetto ai miei gusti personali. Ovviamente questa è una mia opinione personale, per esempio stavo parlando con una amica che mi fa, ah sai vado da una psicologa, ah e mi dice sì è una psicologa con cui fondamentalmente io parlo tutto il tempo, mi piace parlare e mi piace avere quell'ora in cui quella persona ogni settimana mi ascolta e non mi interrompe e non mi giudica e magari un approccio del genere per questa mia amica va benissimo. Ma essendo io una persona che vuole risultati più velocemente possibile, nel più breve tempo possibile preferisco altri tipi di approcci. Gianfranco a questo punto mi sono detto aspetta io conosco abbastanza bene l'approccio breve strategico però che io sappia non ci sono delle tecniche specifiche da utilizzare nella genitorialità con i propri figli ma forse mi sono detto ci sono e non ho cercato quindi ho cercato su internet e trovo uno psicoterapeuta che fa proprio questo, uno psicoterapeuta che si occupa di terapia breve strategica ma con il focus sulla genitorialità. Facciamo due o tre call analizziamo la situazione nello specifico e ci consiglia alla fine due o tre tecniche che io in realtà già conoscevo per il corso che avevo fatto di counseling però in realtà non avevo pensato non so perché come applicare con mio figlio. L'approccio è come piace a me, semplice, pratico ed efficace ed ha risultati piuttosto veloci quindi di conseguenza anche questa volta questo tipo di psicoterapia personalmente nella mia valutazione totalmente personale mi è piaciuto molto. Nello specifico per esempio con questo tipo di approccio abbiamo risolto in modo direi molto innovativo delle crisi un periodo pazzesco in cui mio figlio era si dice oppositivo cioè non faceva i capricci come dicono alcune persone ma proprio il suo scopo nella giornata fosse quello di dire di no, di opporsi. Una cosa normalissima che fanno tantissimi bambini ma se posso diminuire un po' perché eliminare non è possibile però diminuire un po' queste situazioni così difficili per me e per lui beh tanto meglio. Un periodo difficile, rabbia e vecchi traumi. Flash forward a qualche anno dopo e passo un periodo in cui mi sento particolarmente agitato e mi arrabbio veramente veramente troppo facilmente e quindi decido di fare qualcosa. Ora forse saprai che la rabbia è un'emozione che spesso va a coprire altre emozioni per esempio se qualcuno ti fa notare qualche cosa che hai sbagliato beh potresti arrabbiarti anche perché così la rabbia ti impedisce di sentire l'emozione che ci sta sotto magari la vergogna. Ora questo è solo un esempio e la rabbia in sé è un'emozione normalissima naturale però se tendi ad arrabbiarti spesso magari in situazioni che non richiedono tutta quella rabbia se hai una rabbia esagerata esplosiva come a me ogni tanto capita e in quel periodo capitava particolarmente beh ti consiglio di farci qualche cosa. Visto quindi il periodo particolarmente difficile ho pensato che era arrivato il momento di lavorare su diversi traumi che avevo avuto nella mia infanzia e anche da giovane e di conseguenza sono andato. Cerco quindi un terapeuta che abbia fatto dei corsi di EMDR che è una tecnica estremamente efficace per la rielaborazione per lavorare sopra ai traumi e ai ricordi dolorosi con un'efficacia scientificamente dimostrata. Non l'avevo mai provata ne avevo sempre sentito parlare quindi cerco un terapeuta qui a Lisbona dove vivo e lo trovo. Charles. Trovo quindi Charles uno psicoterapeuta inglese che vive qua a Lisbona da un bel po' di tempo. Io so l'inglese piuttosto bene fortunatamente quindi mi informo di lui sul suo sito vede che segue l'EMDR che ha fatto dei corsi di EMDR e ha anche in generale un approccio cognitivo comportamentale di terza ondata segue infatti l'ACT che sta per Acceptance and Commitment Therapy. Vado e dopo un paio di seduta cominciamo a lavorare proprio con la tecnica dell'EMDR. L'EMDR se lo vedi ti sembra una scemenza ma in realtà è efficacissimo. Praticamente consiste in parole molto povere nel focalizzarsi su di un trauma o su di un ricordo doloroso e seguire le dita dello psicoterapeuta che traccia più o meno diciamo così delle figure nello spazio di fronte a te. Tu segui le sue dita e in questo modo gli occhi si muovono in determinati pattern e ti consentono di rielaborare il ricordo traumatico. Sembra assurdo lo so ma non è il seguire con gli occhi un oggetto che fa funzionare la cosa, è il pensare a un ricordo doloroso e muovere gli occhi in un certo modo. Questo permette proprio a livello neurologico di rielaborare il ricordo o perfino il trauma doloroso di modo tale che non sia bloccato diciamo così da qualche parte nella nostra memoria ma venga riassorbito integrato con tutto il nostro essere. Di conseguenza porta a diminuire drasticamente il dolore e anche le conseguenze negative che ha questo ricordo doloroso su di noi, sui nostri comportamenti, sui nostri pensieri ed emozioni. Oltre alle sessioni di EMDR lavoriamo poi con l'ACT che sta ancora per Acceptance and Commitment Therapy, è una terapia cognitivo-comportamentale di terza ondata che mi piace molto, conosco relativamente bene ma lavorarci con un'altra persona è molto più semplice che far esserlo su di sé. Di conseguenza lavoriamo insieme su questa cosa, mi fa prendere consapevolezza di un sacco di comportamenti che ho in diverse situazioni e mi fa seguire i miei valori, quello che voglio in queste situazioni invece di perdermi nel seguire emozioni e pensieri che non mi portano dove voglio arrivare. Dico a Charles e di conseguenza mi rendo conto di pensieri che ho avuto per tutta la vita su cui si fonda diciamo il mio essere, il mio carattere e devo dire che spesso le lacrime non mancano in queste sessioni soprattutto se lavoriamo con le EMDR poi ogni volta vado fuori dalla seduta e il mondo mi sembra completamente diverso, mi sembra veramente più luminoso, mi sembra di dare più attenzione al mondo e di stare meno nella mia testa ed è una sensazione incredibile. Dopo qualche mese devo dire che mi sento decisamente meglio, mi sento più leggero, mi sento meglio, non mi arrabbio più così facilmente quindi ringrazio Charles e gli dico che se avrò ancora bisogno di lui lo richiamerò. Come mi sono trovato quindi? Beh l'EMDR te lo straconsiglio, si lavora sui ricordi dolorosi e sui traumi e funziona tantissimo. L'ACT è una forma di terapia e anche a mio avviso una forma di diciamo filosofia di vita per andare verso quello che vuoi, verso i tuoi valori, verso le cose importanti per te e nella tua vita e lasciare da parte con gentilezza ma in maniera efficace emozioni e pensieri che ti possono dar fastidio. Non per niente l'ACT ha influenzato moltissimo il modo di fare terapia del mio socio del dottor Gennaro Romagnoli, ha influenzato anche me, il modo in cui vivo la mia vita, il modo in cui gestisco le mie emozioni e i miei pensieri. Come scegliere uno psicoterapeuta? Eccoci quindi finalmente a tre consigli fondamentali che sinceramente non ti dicono per scegliere lo psicoterapeuta migliore per te. Il primo consiglio riguarda l'approccio, l'approccio che segue lo psicoterapeuta perché come hai già notato psicoterapeuti diversi seguono scuole di psicoterapia completamente diverse fra loro. Quello che ti consiglio è di scegliere psicoterapeuti che seguono approcci moderni, che abbiano più ricerche scientifiche alle spalle. Per esempio ti posso fare alcuni nomi tenendo in considerazione che quelli che ti nominerò non sono i soli approcci moderni con interessanti ricerche scientifiche alle spalle. Quindi cominciamo con alcuni nomi. Ti posso consigliare ad esempio la terapia cognitivo comportamentale soprattutto quella di terza ondata. Fra le più famose troviamo quindi l'ACT che sta per Acceptance and Commitment Therapy, la MCT che è la famosa terapia metacognitiva e la DBT, la Dialective and Behavioral Therapy. Detto questo non sono le sole che fanno parte dell'approccio cognitivo comportamentale di terza ondata ma sono le più famose. Dopo ti posso consigliare tutto quello che deriva dal lavoro di quel geniaccio di Milton Erikson, il cui pensiero ha influenzato moltissime scuole e moltissimi approcci, fra cui l'approccio breve strategico, uno dei miei preferiti, l'approccio sistemico, l'ipnosi terapeutica e l'approccio incentrato sulla soluzione. Se poi vai già dallo psicologo sapendo di voler lavorare su ricordi particolarmente difficili o perfino dei traumi purtroppo, quello che puoi fare è cercare uno psicologo che abbia fatto dei corsi di EMDR, questa terapia incredibile che come hai visto ho già provato. Ripeto questi sono solo esempi però ti consiglio veramente di andare da terapeuti che seguono approcci moderni con solide ricerche scientifiche alle spalle. E ora magari ti starei chiedendo ma come faccio a sapere se lo psicologo che magari mi hanno consigliato da cui voglio andare ma non ci ho ancora parlato segue uno di questi approcci che mi ha consigliato Marco o comunque approcci moderni con della ricerca alle spalle beh puoi guardare sul suo curriculum ma nel caso in cui non capissi bene quello che leggi perché certe volte i curriculum possono essere un po' diciamo intimidenti puoi fare un'altra cosa e andiamo al punto 2. Il secondo punto infatti riguarda le informazioni iniziali che puoi avere sia prima della prima seduta sia alla fine della prima seduta che cosa voglio dire beh morti psicoterapeuti preferiscono avere una breve chiamata con te semplicemente al telefono di 5 15 minuti o quello che è prima di riceverti nella prima seduta e quando sei lì nella prima chiamata gli puoi chiedere se magari ti può mandare dei link per farti capire meglio che tipo di approccio utilizza e farti capire meglio se appunto c'è della ricerca alle spalle se è un approccio moderno oppure no e farti capire meglio in generale come funziona l'approccio che lui o lei utilizza durante quella prima chiamata ovviamente poi chiede gli maggiori informazioni e poi se sei interessato puoi fare una prima seduta durante la prima seduta lui o lei si farà un'idea migliore di te e alla fine potrai chiedergli ma secondo lei secondo te quanto ci vorrà per risolvere questo problema che ti o le sto portando ovviamente è raro che lo psicologo ti dica ma sicuramente risolviamo in sette volte o in dieci volte o in quince volte no magari uno psicologo starà sul vago però può dirti se è una cosa per cui ci vogliono settimane mesi anni può spiegarti meglio sono soprattutto quello che ti consiglio è di fare domande capire meglio come funzionano le cose più si crea un buon rapporto più gli fai quelle domande che gli vorresti fare che magari molte persone non gli fanno perché sono intimidite meglio è perché più si crea la fiducia meglio migliore sarà il rapporto terapeutico e più veloce sarà il processo di guarigione di cura di miglioramento che farai con lo psicologo quindi non vederlo con lui qua o lei qua e tu qua in basso che non puoi fare domande perché anzi l'esatto contrario meglio è il rapporto meglio è il terzo e ultimo consiglio riguarda la persona che hai davanti perché i terapeuti seguono approcci terapeutici diversi sì ma quello che conta è anche tantissimo la persona perché è un rapporto molto intimo se vogliamo tra persone perché tu andrai a dirgli delle cose molto personali di te ti aprirai con questa persona forse sarà la persona con cui ti aprirai di più in tutta la vita quindi come ci sono delle persone che magari a me stanno simpatiche e a te non stanno per nulla simpatiche e l'esatto contrario ovviamente con alcune persone ti puoi trovare e con altre no è una cosa normalissima quindi se dopo un po vedi che questa persona non ti piace non in grani c'è qualcosa che non va prima di tutto ti consiglio di parlarne con lui o con lei e qui torniamo al punto 2 perché avere una comunicazione aperta è la cosa migliore che puoi fare ma se ancora non ti trovi il consiglio è di cambiare andare da un'altra persona magari anche con un altro approccio psicoterapeutico perché si lo psicoterapeuta lo puoi cambiare senza nessun problema l'unico consiglio che ti do è prima parlarne con lui o con lei disclaimer importantissimo però perché si puoi cambiare psicoterapeuta ma se vai da uno ti trovi da cani vai dal secondo ci litighi ti trovi da cani vai dal terzo ti trovi da cani per forse sei tu e non gli psicoterapeuti il problema forse sei oppositivo magari per dimostrarti che tu hai un problema serio e non te lo può levare nessuno o magari ci possono essere altre origini di questa tua opposizione alle terapie ma in quel caso ti consiglierei di fare un piccolo diciamo esame di coscienza e chiederti ma forse devo migliorare qualcosa io e avere un po più fiducia nel terapeuta che mi trovo davanti magari ora stai pensando che trovare uno psicoterapeuta sia difficile in realtà con qualche telefonata con qualche domanda giusta sono sicuro che ce la farai mi verrebbe da consigliarti quello che secondo me è il più bravo in assoluto ma non posso perché il mio socio il dottor genaro romagnoli che per me è uno psicoterapeuta incredibile ovviamente non diteglielo perché sennò si monta la testa ma a parte gli scherzi ha una lista d'attesa lunghissima quindi sarà impossibile avere fare terapia con lui quello che però ti posso consigliare è di cliccare link qui sotto perché stiamo creando una squadra di psicoterapeuti che seguono gli approcci moderni e scientifici che ti ho consigliato quindi qui sotto in descrizione puoi cliccare sul link e vedere quello che abbiamo in servo per te se invece vuoi vedere come io ho superato una mia paura e delle ansie molto molto importanti per me in una storia veramente un po particolare ti consiglio di cliccare il link che immagino sarà qui se riesco a metterlo iscriviti al canale dai un bel like e ci vediamo al prossimo video ciao ciao